Messa in sicurezza della strada statale, scontro il sindaco di Cannobbio contesta la visione data dalla regione e paventa forti timori per la lentezza con cui si procede. Ad oggi tuona Gian Domenico Albertella, zero euro disponibile per la bonifica dei versanti. Ci è stato comunicato dalla regione al tavolo ministeriale di giovedì che le risorse Cipe sono state assegnate al Ministero e Anas per la costruzione delle gallerie. Albertella ricorda i tre anni trascorsi della frana di Cannero, i due da quella di Cannobbio e sottolinea l'unica novità emersa a Roma per voce di Anas. L'azienda dice che in corso di pubblicazione la procedura di gara per un importo di 120.000 euro per l'affidamento dello studio geomorfologico dei versanti sovrastanti le quattro gallerie. Studio che sarebbe propedeutico al proseguimento della progettazione delle infrastrutture. L'affidamento dello stesso dovrebbe avvenire entro maggio. Il sindaco di Cannobbio aggiunge però non considero tutto questo un passo in avanti né un grande risultato dopo un anno di lavoro. Per cantierizzare la galleria si presumono i tempi di circa due anni. Albertella chiede non venga mistificata la realtà e ammonisce. L'altra comunicazione pervenuta dalla regione è che il Cipe nella seduta del 22 dicembre scorso, la delibera non è stata ancora pubblicata sulla gazzetta, non ha approvato le schede presentate dalla regione che prevedevano interventi sui versanti e in parte per le infrastrutture stradali per 25 milioni di euro, bensì le schede tecniche presentate dal ministero e lo stanziamento è stato assegnato al MIT e ad ANAS per la costruzione delle gallerie. I timori di Albertella si concentrano sui versanti perché spiega, rivestono la massima urgenza e devono essere assolutamente realizzati durante due anni che si impiegheranno per l'attuazione della fase progettuale e procedimentale per la cantierizzazione della prima galleria. MIT e Regione dovranno chiedere ora al Cipe la modifica della delibera del 22 dicembre, chiedendo di assegnare i fondi alla regione e autorizzare così il loro utilizzo per la messa in sicurezza dei versanti. Per evitare perdite di altro tempo, in attesa che il Cipe assegna alla regione 25 milioni in coordinamento con le indagini geomorfologiche di ANAS nei tratti dove verranno realizzate le gallerie, utilizzando i 260 mila euro stanziati dai comuni a cui sarà necessario aggiungere fondi regionali, si è convenuto che entro il mese di aprile sarà stipulata tra i regioni e i comuni interessati un accordo di programma per realizzare gli studi, le analisi, i progetti per la messa in sicurezza dei versanti che vanno da Giffa a Cannobbio.